Torniamo in studio e nella giornata del 3 febbraio non possiamo non parlare della carrozza al Senato, dell'offerta della cera e come già potete vedere lo facciamo con chi più di tutti è stato proprio su quella carrozza, con Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, attuale presidente del Consiglio Nazionale del Lanci. Intanto benvenuto ai nostri studi, che ricordo conserva di quelle giornate? Grazie, grazie di cuore, grazie per questo invito. Vedete, è difficile spiegare ai miei colleghi, a chi è stato sindaco in città italiane o in città europee, mi capita di incontrarne ogni giorno molti, nelle responsabilità che ho come presidente del Consiglio Nazionale del Lanci e nel Comitato delle Regioni, spiegare che cos'è la festa di Sant'Agata e che emozioni si provano. Io sono arrivato a Catania, non sono nato a Catania, ma sono arrivato a Catania bambino, abitavo a due passi dalla cattedrale ed ero anche chierichetto della cattedrale, quindi ho vissuto la festa di Sant'Agata sin dal mio arrivo a Catania quasi da dentro e devo dire che è un'emozione inenarrabile. La Sera del Tre, per esempio, come oggi, la Sera del Tre, il Palazzo degli Elefanti si riempie delle autorità cittadine, dei rappresentanti del mondo della società civile, Piazza Duomo, ma anche via Garibaldi, via Vettore Emanuele, via Etnea si riempiono, normalmente, non adesso ovviamente con Covid, di decine di migliaia di persone e la Sera del Tre c'è questa occasione di straordinaria intensità, i fuochi, l'artificio, l'omaggio e l'inizio dei festeggiamenti. Tanto che c'è un'espressione catanese nel nostro linguaggio parlato, quasi un proverbio che dice, quando tu devi dire qualcosa di meraviglioso e di inaspettato, che non ti aspetti, e si dici, e chi è a Sirocì? Per indicare la meraviglia incredibile che si riesce a realizzare. Tra l'altro abbiamo a Catania, nella provincia di Catania, uno dei più grandi fuochisti, artisti di fuoco di tutta Italia. Pensate che è stato chiamato anche in Inghilterra per matrimoni di personalità molto importanti, del figlio di Sir Roccoforte, che aveva visto i fuochi a Catania e se li è chiamato a Londra per fargli fare i fuochi. Fuochi straordinari con un mix di luce, ma l'emozione forte del Tre inizia la mattina, perché c'è l'omaggio ufficiale della città, è il momento in cui è il comune di Catania, l'autorità civile che rende omaggio alla Santa. E il sindaco, con alcuni assessori, io avevo introdotto anche la prassi di farmi accompagnare da un bambino di una scuola che si era distinto per avere fatto un'azione particolarmente bella. Si sale su questa carrozza, voglio ricordare che è una carrozza del Settecento, tuttora perfetta, funzionante, con i cavalli, eccetera, sempre accompagnata nella mia vita da quel grande personaggio che era Luigi Maina, il cosiddetto commendatore, in realtà è la grande ufficiale, al lungo presidente del comitato per i festeggiamenti, da me nominato alla mia prima sindacatura, cerimoniere del comune, si sale su questa carrozza e tra due ali di folla si sale sino a Piazza Estesicolo, lì c'è l'incontro con l'arcivescovo e inizia questa processione, al contrario, da Piazza Estesicolo si scende per Vietnea sino alla cattedrale dove il sindaco offre il cerode della città, il cerode della città alla Santa ed è sostanzialmente l'inizio. Io ho avuto il privilegio di essere stato nella storia della città il sindaco che è salito più volte sulla carrozza del Senato, ma voglio aggiungere subito un altro momento straordinariamente emozionante della festa di Sant'Agata senza correre, ma voglio anticiparlo subito, il 4 mattina, quando inizia la vera e propria festa con la Messa dell'Aurora, quando alle 5 del mattino la cattedrale è già normalmente, naturalmente quest'anno ovviamente no, con Covid, stracolma di migliaia e migliaia di persone, molte delle quali hanno fatto la notte aspettando di poter entrare. Là dentro il sindaco si avvicina con il parroco della cattedrale, con l'arcivescovo, con il presidente del comitato dei festeggiamenti, nella cappella dove è custodita le reliquie, quella che a Catania chiamiamo a Cammaredda, e il sindaco ha il privilegio nel silenzio assoluto per essendoci migliaia di persone, guardate mi viene la pelle d'oca, anche adesso a ricordarlo a quel momento, si sente una delle chiavi, perché una parte delle chiavi ce l'ha la cattedrale e una parte ce l'ha il sindaco, il primo colpo di mandata, con queste vecchie chiavi lunghe cose, nel silenzio assoluto lo dà il sindaco, ed è qualcosa di assolutamente indimenticabile. Il sindaco entra con l'arcivescovo nella Cammaredda, con il presidente del comitato, con Maina. Maina si era riservato il ruolo di metterci le ali, perché il busto reliquale di Sant'Agata ha delle ali che vengono smontate quando la santa sta là dentro e lui metteva le ali ed era qualcosa di straordinario. Sono momenti che non si dimenticano, voglio ricordarlo a tutti, è di gran lunga la più grande festa religiosa del nostro paese ed è riconosciuto come una delle prime tre grandi feste al mondo della cristianità. Con la precessione dei misteri a Siviglia e con una festa importante in Perù, siamo a livelli impressionanti, veramente indimenticabili. Lei prima ha sottolineato che è proprio la giornata del tre, quella giornata dove è la città, è l'istituzione comune che rende omaggio ad Agata e dobbiamo ricordare che è proprio per la festa di Sant'Agata, Palazzo degli Elefanti, la sede del comune, si veste a festa con questi drappi, con queste bandiere dove viene richiamato il nome di Agata. Ma lei personalmente che ricordo quali emozioni provava quando proprio era lì a salire sulla carrozza? Un momento c'è da dire anche che per i sindaci è un momento particolare perché c'è quello che è un vero e proprio test politico, l'applausometro. È vero, è vero, è vero. Guardi, sia nel momento in cui si sale dentro la carrozza del Senato, ma ancora di più nettamente quando si scende a piedi tra due ali di folla da Piazza Sessicolo e via Tenea. Già da come ti guarda la gente, se ti guarda con freddezza o addirittura quasi con ostilità o con simpatia o addirittura ti applaude al passaggio, tu capisci come è il tuo rapporto con la città. Ci sono stati molti momenti imbarazzanti in cui io non ero sindaco, ma partecipavo ovviamente pur essendo parlamentare tornavo a Sant'Agata e come dire tante volte nell'applausometro ho avuto successo straordinario e quello mi ha incoraggiato naturalmente poi più volte a ricandidarmi. Quindi la sera del tre è naturalmente un altro momento straordinario. A un certo punto durante il ricevimento il sindaco e l'arcivescovo escono sul balcone che è tappezzato di drappi, come anche Palazzo dei Chiedici, ma anche come altri palazzi della via Tenea, quasi tutti i palazzi pubblici, la città metropolitana, l'ex provincia, la prefettura, molti altri anche privati espongono questo drappo color porpora, rosso, con l'A in mezzo. E se posso rivolgere un appello, siamo al tre, ecco domani e dopodomani, anche se la Santa non è in giro e non fa né il giro esterno né quello interno, è comunque la festa di Sant'Agata. E quindi io a chi non l'ha fatto o non ci ha pensato, gli rivolgerei una preghiera dal profondo del cuore. Domani il 4 e il 5 esponiamo i drappi, perché è comunque un momento di omaggio alla Santa, anche se il busto riliquario non è in giro. È un modo di manifestare il nostro apprezzo, il nostro apprezzamento, i nostri sentimenti, l'affetto che abbiamo questa donna straordinaria che con il suo martirio è il simbolo naturalmente della città. È un piccolo appello che desidero rivolgere. Ha prima citato un'altra figura, potremmo dire storica per la festa di Sant'Agata, quella del del commendatore Maina. Ecco, è stata una persona che a questa festa ha dato anima e corpo? Ha dato la vita e devo dire, sinceramente, ha avuto tanto anche dalla festa, perché è stato un rapporto reciproco. Lui di qualunque cosa si parlasse, chiunque fosse l'ospite, di qualunque cosa stavamo affrontando un problema, comunque Sant'Agata c'entrava sempre. E quando ho avuto il privilegio di aprire a Cammeredda e di fare vedere il busto riliquario a Papa Giovanni Paolo II, che io invitai a Catania e che venne a Catania e che volle vedere il busto riliquario di Sant'Agata, piuttosto che quando sono venuti i presidenti della Repubblica, il presidente Ciampi, altri presidenti, gli luccicavano gli occhi. Una delle cose più belle che ho potuto fare per ricambiare questo suo affetto di Sant'Agata, quando ero ministro dell'interno nel 2000, come forse ricorderete, 2000 è stato l'anno santo, è stato il più grande anno santo come partecipazione della storia della cristianità. Pensate, a Roma sono venuti 27 milioni di visitatori. Io ero ministro dell'interno, quindi responsabile della sicurezza, andò tutto benissimo. a febbraio del 2001 il Papa, Giovanni Paolo II, sempre volle concedere un'udienza, tipo quella che si usa con i capi di Stato, per ringraziare il governo italiano, le forze di polizia. Io andai col comandante generale dell'arma dei Carabinieri, col capo della polizia, col comandante della guerra di finanza, per rendere omaggio al Papa ed essere da lui ringraziati. Ma mi portai con me, il comandatore Maina, insieme alle altre autorità, e devo dire, era veramente felice. Lui ha dato tutta la sua vita a Sant'Agata e ha avuto da Sant'Agata il privilegio di, come diranno, condurre questa festa straordinaria. Devo dire che il comitato che si è costituito subito dopo, quello guidato da Francesco Marano, con moltissima personalità di grande rilievo, ha proseguito in questo compito e ha anche, diciamo, ordinato, messo un po' d'ordine nel comitato, con un festeggiamento, con un regolamento, che è descritto in questo delizioso libro che è uscito adesso, Tutti i Devoti Tutti, in cui si parla ovviamente della festa di Sant'Agata. Ha fatto riferimento anche appunto alla questione comitato. Quanto è difficile stare dietro alla festa di Sant'Agata anche come istituzione, perché comunque il comune in quei giorni è totalmente avvolto da questa festa. Sì, lo devo dire sinceramente, non è facile. Se tu lasci andare le cose, la festa si svolge lo stesso, perché i catanesi sono veramente, nella stragrande maggioranza, devoti a Sant'Agata. Pensate, adesso non so se statisticamente è vero, ma credo di sì, che nei giorni della festa c'è un crollo verticale dei reati a Catania. Non solo non ci sono omicidi, ce ne fosse solo uno. E ho la sensazione che quell'omicidio che fu fatto a Piazza Borgo, colui il quale lo fece durante la festa di Sant'Agata, sia stato, tra virgolette, consegnato alle forze di polizia perché aveva fatto uno sgarbo che non andava fatto. Questa è una cosa che si racconta, non so se è vero o no, ma certamente la festa procede. Il problema che noi abbiamo è di evitare che cadano, accadano o che possono accadere dei fatti che dispiacciono. Per esempio qualche candalora che se ne va a rendere omaggio dove non dovrebbe andare. Qualcosa di simile è accaduto anche a Belpasso qualche tempo fa, in altre realtà. Ma, diciamo, oppure per esempio il protrarsi della festa oltre ogni limite, naturalmente. Già la Santa rientra nella tarda mattinata del 6, nonostante i tentativi che abbiamo fatto nel passato di regolamentarla. È difficile riuscire a far passare il principio che la festa deve svolgersi nel rigore più assoluto. Ma negli ultimi anni qualcosa sotto questo profilo onestamente si è fatta, in collaborazione con la prefettura, con le forze di polizia, in collaborazione soprattutto con i circoli di Sant'Agata che ci hanno capito in questo sforzo e che hanno capito che la festa deve restare limpida e splendente anche dal punto di vista del rispetto delle regole. È un gran lavoro. Io ricordo benissimo quelle che erano anche i suoi solleciti a rispettare le regole proprio per la festa e per garantire comunque al meglio lo svolgimento dei festeggiamenti che quest'anno, sì, è vero, sono in tono minore, però comunque il centro, la sacralità dell'evento rimane. Assolutamente sì, naturalmente. Poi ci sono anche i piccoli problemi della vita di ogni giorno perché la festa di Sant'Agata lascia strascichi. Lo strascico, per esempio, il più importante che lascia è la cera che viene sciolta per la città e che una volta, diciamo, restava per 15-20 giorni con un sacco di incidenti, motociclette, biciclette. Abbiamo affrontato anche questi piccoli problemi per dire che la festa non è soltanto le cose splendenti. Per esempio scoprendo che mettendo la segatura subito e poi dopo il passaggio della Santa, già andando a sciogliere anche con la famma sidrica la cera, la situazione enormemente migliorava, naturalmente rispetto al passato, e anche questi piccoli problemi venivano risolti. Io ho avuto ospiti straordinari per la festa di Sant'Agata, da tutto il mondo, e devo dire sinceramente che ancora oggi ho persone che mi scrivono e mi raccontano e mi ricordano quelle emozioni assolutamente uniche. E lì il protagonista è il catenese. Nella salita per esempio, nella salita dei cappuccini, per esempio, il quattro nel giro esterno, con quella curva prima di arrivare in via plebiscito. Io qualche volta vado a vederla o a un appartamento lì di fronte o alla camera di commercio e sei a contatto con i cittadini e li vedi e li senti respirare. Il momento straordinario e emozionante del rientro e sei mattina, forse il più bello di tutti, naturalmente, in via Cruciferi, davanti al monastero di Clausura, quando le monache escono solo per quella volta e intonano questo canto muto che è anche quello che fa venire i brividi. Una volta portato il capo della polizia a vederlo dal posto di di fronte e, francamente, ripeto, ancora oggi mi ringrazia per questa bellissima esperienza straordinaria. In conclusione, il suo messaggio ai catanesi in occasione proprio di questa festa di Sant'Agata. Allora, voglio raccontarvi due cose. Dopodomani, il 5 mattina, proprio il giorno di Sant'Agata, io purtroppo non sarò a Catania, non potrei comunque entrare in cattedrale perché voglio rispettare per primo le regole, pur essendo Presidente del Consiglio Nazionale del Lanci, io sarò in Santa Sede al Vaticano. Ho una delegazione con il Comitato Direttivo del Lanci per un'audienza speciale che il Santo Padre ci dedica ai comuni italiani. E siccome è il 5, stiamo preparando, non posso dire di più, una sorpresa per quel giorno che vorremmo dedicare a questa Papa straordinaria che è Papa Francesco, che è una persona che è molto vicina a tutti, ma in particolare a chi soffre. E siccome questa è una città che ha sofferenze acute, da parte nostra vogliamo dedicargli, anche come tutti i comuni italiani, a Papa Francesco qualcosa che saprete a qualche giorno. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi in questi giorni di festa, ringraziamo Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale del Lanci, noi tra poco riprenderemo la linea, anche noi dobbiamo fare delle pause rigorosamente anche non solo per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo cittadini. Viva Santa Clara! Viva!